il ladro di pali è un castoro non è per niente quello che mi aspettavo io salve castoro, io sono rubble e loro i miei cugini chissà come si chiama mordendo ha fatto crunch che ne dite se lo chiamiamo crunchy? mi piace quel nome, ciao crunchy, chissà perché ha preso il palo ma certo adesso ho capito sì abbiamo capito aspetta, che cosa abbiamo capito? i castori vivono in tane di legno, ecco perché lui ha preso i pali per costruire la sua casetta mi è venuta un'idea, non sarebbe bello se... noi costruissimo a crunchy una casa con i materiali del cantiere che idea bautastica, non avrebbe più bisogno dei pali mix, sei una cucciola in gamba coraggio, andiamo a costruirli una casa nuova ciao cuccioli, avete scoperto che cosa è successo ai pali? un castoro li ha usati per costruirsi la sua dana castoro? beh, di sicuro non è quello che mi aspettavo è quello che ho detto anch'io costruiremo a crunchy una nuova casa e ci riprenderemo i pali oh oh, si sta facendo buio dobbiamo far tornare la corrente in fretta mi è venuta un'idea torcia! mix, questa sai che è proprio un'idea... brillante? brillante, perché la torcia elettrica brilla divertente torcia! per fortuna sono cariche costruiamo tutti insieme! troppo da elettrico! oh no! è il tramonto e noi non abbiamo ancora finito non va bene, non va affatto bene non vedo cosa sto trapanando ci serve più di qualche torcia per costruire al buio Rubble, come un razzo molto illuminato! sì, Rubble! la tua è un'idea geniale, Rubble portate qui tutti i veicoli e poi accendete i fai abbiamo la luce! ripeto abbiamo la luce! significa che possiamo continuare a costruire bravissimi, cuccioli miei! scommetto che Crunch adorerà la nuova casa lo sparo anch'io portiamola al fiume e ripristiniamo la corrente ehi, Crunchy! arriviamo! e che tu possa gioire, speriamo! attento, Wheeler! guida molto piano non roviniamo la casa siamo arrivati! sei pronto per la tua casa, Crunchy? afferra! solleva! sposta! allora, Crunchy! che te ne pare? ehi, gli piace! gli piace! sì, gli piace! ne sono veramente felicissimo! fate spazio a Charger e anche a Crunchy sto per saltare di gioia! deve essere qui intorno da qualche parte truffles! truffles! riconoscerei quel grugnito ovunque! è truffles! e proviene da... quel fiume! oh no! truffles sarà nei guai! dobbiamo salvare truffles! venite qui al fiume! arriviamo subito! truffles! 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 fa tutto bene! è dentro! quella pozzagra lì! oh no! è davvero nei guai! dobbiamo tirarla fuori! Charger, avvicinati alla pozzanghera! useremo l'argano per salvare truffles! non c'è problema! truffles! aggrappati! perché non lo afferra? avete trovato truffles! alla fattoria sono già arrivati tutti! l'abbiamo trovata, sì! ma è bloccata nel fango! non riusciamo ad aiutarla! non sembra proprio una richiesta di aiuto! quello è un grugnito felice! eccoci qua! tutte infangate! oh! fa caldo qui! oh! scommetto che questo fango ti fa bene alla pelle! non è vero! stai cercando di rinfrescarti! oh! ecco che cosa sta facendo! signorina Zoe! lei ha imparato una cosa sui maiali! e anche noi! si rotolano nel fango per rinfrescarsi! sì! è proprio così! forse sto diventando una brava allevatrice! i maiali usano il fango per rinfrescarsi! buono a sapersi! peccato che non ci sia il fango nella stalla per truffles! oh! ecco perché a truffles non piace la stalla! a me piace il pulito! ma lei piace il fango! oh! del fango sul pelo! non fa niente! mi pulirò più tardi! adesso dobbiamo riempire la stalla di una cosa! il fango! salve a tutti! Zoe e Truffles arriveranno qui tra poco nel frattempo! riempiamo la nuova stalla di fango! non posso credere di averlo detto! saldatore! ecco la terra! ripeto! ecco la terra! mix! ora tocca a te! e a me tocca dare alla stalla una trasformazione alla mix! puntare! mirare! spruzzare! ottimo lavoro! petercov! vi presento la mia amica truffles! sì! la tua vasca di fango è pronta all'uso! allora truffles! che cosa ne pensi? oh no! non le piace la vasca! no! non credo proprio che le piaccia! credo che la adori alla follia! e viva! sto imparando a conoscere bene i maiali! e questa amici miei è una maialina felice! ora la festa comincia davvero! è il momento di scodinzolare! dentro è il bando! una stalla è costruita! un rabo in la sua squadra! è bautastica! ogni cosa che facciamo! ecco! è dietro il muro! oh! trapano elettrico! ma quello è un muso! oh! e quel muso appartiene a un bel topino! oh! allardiamo il buco così il topino può uscire! stai indietro piccolo! sega! forza topino! adesso vieni fuori! oh! l'ho sentito! anche io! ma... non viene da dentro il muro! proviene da... il pavimento! ehi! ehi! siamo finiti tutti sottosopra! e... decisamente c'è un altro topino qui sotto! aiutiamolo a uscire da lì! wow! martello! un altro topino! un altro topino! ciao topino! io sono charger! ehm... squip! 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 ehm... charger? sto cercando di comunicare! ma non funziona! secondo me lui sta cercando qualcuno! sali nel mio casco topino! ti faccio uscire da lì! torna qui topino! ti aiutiamo noi ad uscire! uh! martello! è laggiù! uh! dobbiamo farlo uscire per farlo stare zitto! sì! il sindaco Gretway deve provare il discorso! oh! sta parlando con noi! squip! squip! charger! non sta parlando con noi! guarda! è il topino che abbiamo aiutato! credo che siano amici! aha! sono due topini amici! adesso possiamo dire al sindaco che il suo problema è ufficialmente... anche dentro il soffitto! wow! ma quanti topi ci sono in questo posto? e... quale attrezzo usiamo per arrivare al soffitto? charger! serve qualcosa di molto più grande di un solo attrezzo! oh! so esattamente di che cosa stai parlando! yuhu! afferra! solleva! sposta! oh! mio caro topino! sei qui dentro? oh! sei soltanto un cuccioletto! aspetta un minuto! ci sono! io credo che quei topini conoscano il piccolino! charger! è evidente che lo conoscono! sono i genitori! ecco perché squittivano così tanto! stavano cercando il piccolo che si era perso qui sopra! è tutto a posto! vieni! vieni piccolino! oh! è senz'altro la cosa più tenera che abbia mai visto! oh! guarda qua! ora sono di nuovo insieme! sono così felice per loro! oh oh! fategli spazio! sto per saltare di gioia! oh! Rubble! guarda! io credo che vogliono abitare nel municipio! però il municipio è troppo grande si perderanno e squittiranno di nuovo! charger! mi è venuta un'idea! abbiamo costruito la casetta per le paperelle di motor! ho capito che vuoi dire! sono d'accordo! ehi topini abbiamo una cosa per voi un mini municipio il monitopino la vostra casa! è davvero una casetta deliziosa proprio un'ottima idea è davvero un'ottima idea per il nostro canale è davvero un'ottima idea Grazie a tutti.